Va strano vederla da quella parte ma... Eh lo so, infatti. Grazie Presidente, sarò rapidissimo per annunciare il voto contrario da parte del Movimento 5 Stelle perché i concessionari di centri sportivi municipali non pagano la Tari e quindi non riteniamo sensata la richiesta di esentarli da un pagamento di una tassa che già non pagano. Forse qui i proponenti si stanno confondendo con i concessionari di impianti sportivi comunali e in quel caso ovviamente valuteremo gli aiuti che sarà possibile dare ai concessionari ma ecco in questo caso non l'hanno mai pagata e non la pagheranno nemmeno quando le attività riprenderanno quindi il nostro voto ovviamente sarà no.